non è di qua è di là il sentiero no no c'è il signore là in rosso che segno che dovranno passare di là dove vito giù di qua invece dritto mi hanno detto che è gialla basta che gli dai in quarta forte qui arrivi giù al volo non c'è l'allocco non c'è l'allocco Sì, andrea, andrea! Intanto guarda dov'è, là in mezzo al rosso, adesso gliela preparo io la storia. Intanto che lui guarda il paesaggio. Nesta famiglia pensa. Fermo lì! Sì, andrea, 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 andrea! Andrea, andrea! 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 Fermo lì, eh! non me lo toccare eh guai o no vai avanti vai avanti un pezzettino che ci passa che spettacolo